Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qui dalle sali del Bobby Centrum Casinoi, un'occasione del tagadone dei tigri di tappa a Dornò. Come vedete siamo arrivati al 19esimo livello di giornata, 43 i giocatori ancora in gara quando i bui sono saliti a 3.600 con l'ante a 500, 14 minuti alla fine del livello con un average che si attesta attorno ai 121.860 chip. Come vedete dalle inquadrature sono 5 i tavoli rimasti in gara attualmente, andiamo ad inquadrare anche quest'ultimo. Vedete quindi che il field si sta lentamente riducendo, questo sicuramente ci porterà a terminare la giornata, prevediamo attorno alle 11 massimo mezzanotte, con i 18 giocatori candidati per ripresentarsi al Day 3 quando poi si allestirà il final table televisivo e si decreterà il campione di questo evento. Ci ritroviamo più tardi per quanto riguarda gli ulteriori aggiornamenti della sala, come sempre pocaditaliaweb.org